Era intestatario di 240 automobili, molte delle quali coinvolte in furti. Un 32enne romeno residente a Carpi è stato denunciato per falsità ideologica in atto pubblico e truffa gravata ai danni dello Stato. Una denuncia che è scaturita da quando ad ottobre una pattuglia della polizia locale di Gabiccemare e Gradara fermò un'autovettura con a bordo tre cittadini serbi trovati in possesso di un vero kit del ladro composto di cacciaviti, piedi di porco, guanti e torce. Tre persone, di cui una irregolare sul territorio nazionale, che furono denunciate in concorso per il possesso di oggetti da effrazione mentre l'auto era intestata a un 32enne romeno che da certamenti è risultato proprietario di ben 240 macchine alcune delle quali già sottoposte a sequestri finalizzati alla confisca in quanto utilizzati per commettere reati. Il romeno di fatto risultava totalmente sconosciuto al fisco nonostante fosse titolare di una partita IVA per la commercializzazione di autoveicoli. Un personaggio risultato inizialmente irreperibile ma già conosciuto dalla giustizia italiana in quanto al centro di un'attività che lo vedeva indagato per delle fittizie residenze in Romagna funzionali ad ottenere il rilascio di numerose targhe prova. A gennaio è stato richiesto un blocco anagrafico da inserire nelle banche date della motorizzazione impedendo così all'uomo di acquistare nuove autovetture e cancellando d'ufficio per intestazione quelle già in suo possesso e impedendone quindi la vendita. Dopo lunghe indagini la polizia l'ha rintracciato a Gorizia mentre stava per espatriare oltre il confine italiano.